Buonasera amici azzurri Eccomi qua, ma solo per dire una cosa a chi mi messaggio sti rubentini Ma volete farmi o no? E' una cosa che mi frego quando vorrete a me, quando vorrete a me vorrete di aulo Ma io? Io? Cacchissi da me? Vuoi tornare a dire, vuoi schifo, cacchia a fare, non ce la faccio e vuole bene, non ce la faccio proprio e vuole bene Tu come scrivi? Capò scrivi che sei un juventino campano Un juventino campano Ma? Ma tu quando hai scritto mi parevi più portoghese, mi parevi più cinesi Ma che fai? Cazzo, un juventino campano hai scritto così E tu stai in due ore, bello loro fra E se sei un juventino campano hai scritto così E allora? Stai proprio in due ore fra Ma quello che dico io? Tu mi hai nominato in due messaggi alla guerra Io lo so, c'è tutto il modo che questo video mi è accusato Ma accusato è brutto però E non fa niente, io codo Perché quando tu accosti, io codo Ma codo proprio assai, codo Che c'ha fatto? Codo proprio assai Ehm, una cosa ti posso dire Ma io, ma tu, ma io non codo di mura Ma sempre con tutto il conosco fra E quando viene a me un video messaggio Fate una risata Perché io, ironicamente pazzia Ma vi è schifo sempre però Sempre calcisticamente mi è schifo Non vuoi ascoltare male Sempre è solo forza Napoli perché io, se ti sembra una maniata di monezza, non vuoi scordare mai. Ciao!